Guarda che non hai più quattordici anni. Non serve sgattaiolare quando fa tardi. Scusa. Ho saputo di crema. Già. Sei contenta? Contentissimo. Che c'è? Cos'ho che non va? Perché gli altri vanno avanti mentre io? L'unica cosa che faccio è pomiciare con il mio ex delle medie che è sposato. Non hai trovato la persona giusta. Il problema non sono gli altri. Sono io. Non sono la persona giusta per nessuno. Sei la persona giusta per me. . Non è vero. Grazie a tutti